L'Alleanza del Parlamento Europeo contro la fame e la malnutrizione si è sempre impegnata a mantenere al centro del dibattito internazionale l'importanza della sicurezza alimentare e la lotta contro la fame, tema che in queste settimane si è dimostrata di primaria importanza anche a livello europeo. Engagiere ich mich ganz besonders für Frauen. Es geht um Zugang zu Wasser, es geht um Zugang zu Bildung und Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten. Kurz, es geht um den Zugang in die Zukunft. Creating a more sustainable and resilient food systems that really reinforce and prioritizes animal welfare. Promovere l'autonomizzazione delle donne e dei giovani nelle zone rurale nel cadre della nuova strategia Afri-Unione Europea. Arbeite ich aktiv an der transformation der Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsysteme der EU. -Unione Europea -Unhà-Unhà. -Unhà-Unhà-Unhà. Grazie a tutti.